Ciao, benvenuto o benvenuta in questo video, sono Marcello Chiapuni e sono qui nel mio studio circondato di cavi e macchinari vari per parlare di stato infiammatorio, ma stavolta per parlare del mio stato infiammatorio. Andremo a vedere insieme una valutazione di me stesso attraverso una serie di strumentazioni e anche attraverso i miei stessi sintomi. Questo video è utile anche per raccogliere un po' di suggerimenti su come migliorare lo stato infiammatorio generale. Io ho parlato tante volte di stato infiammatorio sotto tantissimi punti di vista per il dolore, per la stanchezza e così via. Oggi lo vediamo proprio in pratica e ho deciso di vederlo anche proprio su me stesso perché io ho parlato tanto, mi ritengo un esperto di questo argomento, ma sono un essere umano con una vita normale, con una vita impegnata, non sono completamente immune da nessun tipo di stress, devo anch'io stare attento a gestire quello che è il mio stile di vita, la mia attività fisica, la mia alimentazione e così via. Quindi andremo a vedere come vanno alcuni test, la valutazione di uno stato infiammatorio, lo vediamo tra un attimo, è una cosa abbastanza complessa, non è un qualche cosa che c'è un test che dice ah sì ce l'hai ed è tanto così, no è una valutazione di insieme e vediamo anche come si può, perché lo sfrutto tanto di questo principio autovalutare, lo vediamo tra un attimo e ho deciso di fare questa cosa all'inizio di una nuova iniziativa che ho voluto portare avanti alla quale ti invito assolutamente ad iscriverti e come vedremo può aiutare anche me, che è rinnova e rinforza muscoli e postura, un programma fondamentalmente di allenamenti posturali completamente nuovi e nati specificamente per dare ai muscoli delle stimolazioni originali, per scoprire nuovi muscoli, per allentare una serie di tensioni che magari sono nascoste, cosa che può molto molto aiutare in determinati casi e come vedremo anche nel mio. Bene, allora vediamo insieme la mia valutazione dello stato infiammatorio ma ti invito ancora ad iscriverti alla mia nuova iniziativa rinnova e rinforza muscoli e postura, puoi avere tutte le informazioni e accedere alla lezione introduttiva gratuita guardando i link sotto a questo video nella descrizione, puoi accedere immediatamente, ci sono tutte le istruzioni su come partecipare a questa iniziativa ad alta interazione perché come vedi anch'io stesso mi metterò in gioco perché come ho detto anch'io sono un essere umano, ho i miei punti deboli, li vedremo, anzi adesso li mettiamo anche un po' a nudo, rimettiamo lo scoperto e andiamo a vedere che cosa può aiutare me ma naturalmente che cosa può aiutare tutti, quindi ti invito alla mia nuova iniziativa, vai a vedere i link nella descrizione del video. Allora eccoci qua, iniziamo un po' la mia, vediamo un po' come è andata la mia valutazione, iniziamo dall'argomento più importante, le mie metodologie le ho espresse e continuo ad esprimerle tanto anche a mezzo telematico, anche online, anche sotto forma di videocorsi, anche sotto forma di consulenze da remoto, questo è possibile soprattutto grazie a questa cosa che dai, ovvero al fatto che dai sintomi e dalla storia della persona se abbiamo la possibilità di confrontarci capiamo già buona parte dei dati e adesso vedremo insieme che i sintomi sono coerenti con i dati anche che rilevano le strumentazioni, ripeto la valutazione di uno stato infiammatorio perché poi diciamo stato infiammatorio ma intendiamo anche stato tensivo, a volte è uno stato solo tensivo che non ha delle vere e proprie manifestazioni infiammatorie, non è appunto qualcosa di ah sì hai fatto questo test ce l'hai non ce l'hai ma è il risultato di una serie di valutazioni, prima valutazione è proprio questa, quella dei sintomi. Allora vediamo i miei sintomi fondamentalmente. Allora se io devo fare una valutazione dei miei sintomi dal punto di vista dei dolori muscoloscheletrici non ho particolari problematiche e direi che ci siamo perché insomma sono buona parte della mia giornata impegnato nell'anche illustrare esercizi e allenamenti quant'altro quindi la del cervicale con le minimi tensioni ogni tanto, ho avuto un po' di problemi a una spalla ogni tanto qualche piccolo fastidio, lato sinistro, l'arto superiore sinistro praticamente nulla, lato dorsale magari ogni tanto un po' di rigidimento, la lombare magari quella dove ho avuto un pochettino più di infortuni, un pochettino più di problematiche ma problema molto limitato, arto inferiore sinistro nulla, saltuario, dolore all'arto inferiore destro al ginocchio ma niente di che. Dal punto di vista dei sintomi infiammatori invece, questi sono sintomi muscoloscheletrici di dolori, dal punto di vista dei sintomi infiammatori io non posso dire, qui ovviamente ho fatto una selezione, una selezione dei principali perché altrimenti diventa troppo pesante perché sono veramente tanti. Quindi non posso dire di avere ragionamente stanchezza, lo stomaco non è particolarmente un mio punto debole, qualche gonfiore ogni tanto, l'intestino devo dire che i gonfiori all'intestino sono stati diciamo storicamente un po' di più il mio punto debole, cioè se non ho un elevato controllo diciamo sul mio stile di vita sicuramente l'intestino è la parte che ne soffre di più. Posso dire di essere una delle persone meno ansiose del mondo nel senso di, lo vedremo adesso tra un attimo quando vedremo i dati strumentali, è diverso nel senso di agitazione, agitazione di fondo mia è tra le più basse che io abbia mai rilevato anche strumentalmente, però vediamo, è diverso dal poi stato tensivo vero e proprio. Il mio sonno è un sonno di discreta qualità, quindi non ho disturbi del sonno più di tanto, posso dire come termoregolazione ho inteso mani e piedi freddi, posso dire invece sicuramente, se devo trovare un punto debole del mio sistema, mani e piedi freddi sicuramente, in particolare d'inverno, bene. Ho raccolto in un'unica voce, sintomi emotivi, preoccupazione, ci sono dentro tutti quei sintomi, diciamo, di sistema nervoso in stato di tensione, ma non in stato di agitazione, sono due cose diverse, stato di agitazione vuol dire scatto facilmente, l'ansia vera e propria, stato di tensione è più una cosa più inconscia, più relativa al rimugino, preoccupazione, facilità a sviluppare appunto anche preoccupazione, perché no? Ecco devo dire che sicuramente su questa cosa mi riconosco abbastanza più che sull'agitazione, sulla tendenza magari a preoccuparmi anche più del dovuto per le situazioni e così via, e beh però anche questo sicuramente è un qualche cosa che ha un impatto sul nostro stato di benessere, e come se ha un impatto sul nostro stato di benessere, ci si può fare qualcosa dal punto di vista fisico? Sì, anche se è una cosa molto caratteriale, ma ci si può fare qualcosa dal punto di vista fisico, vediamo insieme che cosa, e vediamo però anche, andiamo avanti con la mia analisi. Quindi nel complesso, guardando i sintomi, io non ho molti sintomi infiammatori, pochi lievi, non ho particolari sintomi muscoloscheletrici. Già così, questa analisi molto sommaria, io che cosa mi aspetto? Mi aspetto una persona con una struttura discreta dal punto di vista della muscolatura, dal punto di vista dell'agilità generale, ma che potrebbe, perché no, sottoporre ha un po' troppo di stress il suo sistema nervoso, ok? Il suo sistema nervoso è un po' sullo stress, ma i suoi muscoli lavorano bene. Vediamo. Allora, il primo test che ho fatto su di me e che anche di solito faccio, è un test proprio sulla struttura e l'analisi della composizione corporea. Quanto muscolo, quanta acqua, quanta idratazione e così via. Sono tanti tanti dati che si possono avere, però che cosa ci interessa? In questo caso no, non devo tornare indietro. Mi interessa per esempio, perché mi torno indietro qui? Mi interessa sapere per esempio se ho una buona quantità di acqua totale, io ho una discreta, più che discreta quantità di acqua totale. Mi interessa, ecco, mi interessa, va detto una cosa, a 40 anni è normale che ci sia più infiammazione che a 20 e a 60 è normale che ce ne sia più a 40, quindi non siamo alla ricerca di dati perfetti. È normale ad esempio che il mio dato sull'acqua extracellulare, l'acqua extracellulare è un buon indice di perdita di qualità dei tessuti, più siamo infiammati più i nostri tessuti perdono di qualità, ma i nostri tessuti perdono di qualità anche semplicemente con l'andare avanti del tempo e quindi è abbastanza normale che la mia acqua extracellulare sia un po' di più di quanto non sarebbe l'optimum. Quindi questo non ci dice più di tanto. Un primo dato che potrebbe essere interessante è questo ASA HPA, questo ASA HPA è un dato fondamentalmente di conducibilità elettrica e tende ad abbassarsi, tanto più noi tendiamo a stiracchiare troppo i nostri ritmi, il nostro ritmo fisiologico, essere belli attivi al mattino e spegnerci la sera, tanto più tendiamo a stiracchiare un po' i nostri ritmi e tanto più questo dato si abbassa da quello che vorremmo, che è più o meno questo. Quindi il mio è, ok, guarda che stai stiracchiando un pochettino i tuoi ritmi, ma comunque la tua struttura è solida perché se io vado a guardare la mia massa muscolare, la mia massa muscolare, aiuto, adesso poi mi perdo perché ho cambiato, eccolo qua, la mia massa muscolare è 25 kg, il 42% della massa magra è valori assolutamente nella norma, dal punto di vista del grasso, la percentuale di grasso è abbastanza bassa, quindi è una struttura che dal punto di vista proprio come sono fatto mi protegge perché c'è una buona muscolatura, non un'elevata quantità di grasso, una qualità dei tessuti discreta e quindi almeno dal punto di vista della struttura c'è una buona protezione, questa analisi generale della composizione corporea. Quando però sono andato a fare un'analisi un pochettino più precisa che è una sorta di tomografia della composizione corporea, quindi analizzi area per area quante aree stanno dando segni di stress, fondamentalmente un'area che ha segni di stress mostra dei cambiamenti della conducibilità elettrica, quindi andando a misurare come queste strumentazioni fanno la conducibilità elettrica, vediamo quante aree stanno mostrando segni di stress e tante più sono e tante più vuol dire che stiamo stiracchiando i nostri ritmi, il nostro stile di vita e così via. Ecco ad un'analisi quindi un pochettino più raffinata, vediamo che le mie zone di allarme, continuo a tornare indietro odio profondo, ok? Le mie zone di allarme sono quasi pari alle zone che funzionano bene, ok? E anche questo mi sta dicendo, ok? Nulla di particolare da segnalare, ma siamo già in uno stato, eccolo qua, di iperattivazione, come per dire attenzione al carico totale di lavoro che stai dando al tuo corpo, al tuo corpo o al tuo cervello? Questo lo vediamo bene facendo l'analisi, sono autofatto l'analisi della variabilità cardiaca. La variabilità cardiaca è un qualche cosa che non ha nulla a che vedere, o meglio, sì, non ha nulla a che vedere con le patologie cardiache, non è qualcosa che noi cerchiamo per le patologie cardiache, non è il mio lavoro, ha una correlazione anche con la cardiologia, però non è questo sicuramente che ci interessa, ci interessa perché la variabilità cardiaca è un ottimo dato sullo stato di tensione e agitazione a riposo. E questo è molto importante perché ci sono molte persone che a riposo hanno già uno stato, non sono realmente a riposo, hanno talmente stato tensivo che anche a riposo il loro cuore manifesta attraverso una serie di dati, questo stato di agitazione. E come dicevo prima, il mio stato di agitazione è basso, io a riposo ho 52 battiti, che è un valore basso, al di là dello stato di forma, io questo qua ce l'ho anche se non mi alleno particolarmente, non faccio partire ciclismo o quant'altro, è fondamentalmente una caratteristica. Ci sono persone che a riposo hanno i classici 65-70 battiti, benissimo, ma hanno anche 80-90-100 battiti, e quando sono sotto esame, come in questo caso, vanno anche a 120 battiti a riposo, ma se vanno a 120 battiti a riposo per un test come questo, che cosa significa? Che il loro sistema è fortemente, che è fortemente eccitabile, è sempre in allarme, ok? Quindi io questo stato non ce l'ho, però l'analisi della variabilità cardiaca scomponendo il segnale ti dice anche un qualche cosa di interessante in realtà. Guardando la forma dell'onda, io qua che cosa vedo? Che è una cosa nella quale mi riconosco molto. In condizioni ottimali è questa, infatti è anche segnata in blu, è questa di giorno la gamma più attiva, di notte è questa. Questa gamma è particolarmente, invece che nel mio caso è quella più attiva, questa gamma è particolarmente attiva nelle persone il cui sistema nervoso tende a sviluppare tensione, rimugino, preoccupazione eccessiva. In questo caso si va ad alzare tanto questa gamma di frequenza, che nel mio caso, eccolo qua, è quella dominante. Quindi il messaggio che ci porta è, accello, non sei una persona in uno stato di agitazione, il tuo stile di vita non compromette il tuo sistema nervoso, ad esempio, ma sicuramente il tuo cervello, il tuo sistema nervoso in generale, tendono a sviluppare un po' questo stato tensivo inconscio, sulla base caratteriale, e tendono a sviluppare anche appunto preoccupazione. Questo dal punto di vista della tensione muscolare, che cosa va a fare? Va sicuramente a aumentarla, dal punto di vista degli stati infiammatori, va a creare una base maggiormente predisponente. Andando a fare la stessa cosa, con lo stesso tipo di esame, con lo stesso tipo di principio, ma specificamente sulla corteccia prefrontale, specificamente sul cervello, io vado a riscontrare esattamente, e tutte le volte sbaglio tornando indietro accidentalmente, vado a riscontrare esattamente la stessa cosa, una forte attivazione della very low frequency, della gamma a molta bassa frequenza, che è esattamente quello che dicevo. Quindi che cosa mi dice tutto questo? Mi dice che dal punto di vista strettamente infiammatorio, nel vero senso della parola, ho una buona copertura da parte della mia struttura, ed è questo è confermato anche dal fatto che effettivamente di sintomi infiammatori veri e propri ne ho pochi, ma a livello di sistema nervoso devo stare particolarmente attento a quanto sovraccarico il mio sistema, perché ci sono già segni di sovraccarico, un po' sono legati alla base caratteriale, e un po' sono legati al fatto che, ok, hai le responsabilità, hai delle cose da fare, delle preoccupazioni eccetera eccetera, poi il tuo sistema magari tende anche ad amplificarle, e buonanotte. Ecco, dicevamo, dal punto di vista scientifico che cosa si può fare? E arriviamo qua. Nel mio caso, questo caso però è un caso, è un qualche cosa che si riscontra in moltissime persone, a volte si riscontra solo questo, a volte si riscontra anche un vero e proprio stato di agitazione, con battiti alti. Bene, ci sono una serie di cose che si possono fare naturalmente, però due sono particolarmente efficaci su questo tipo di situazione. L'attività fisica ad alta intensità, ad alta o altissima intensità, e io infatti lo noto quando, per esempio, e lo puoi notare praticamente soltanto con gli sport di squadra, perché nello sport di squadra, banalmente nel mio caso, giocare a basket al campetto, però diventa velocemente spesso una situazione altamente competitiva, dove tu sei portato comunque a dare il massimo per tenere salvo l'orgoglio. Ecco, quella è una situazione dove effettivamente ti spingi un po' al limite delle capacità fisiche, da soli è difficile un po' spingersi al limite dell'attività, della fatica fisica naturalmente ed è difficile farlo per un tempo continuativo. Però che cosa noto, per esempio, che se io appunto mi spingo vicino al limite, mi cambia molto, questo è interessante, la percezione di preoccupazione per gli stessi problemi. Ok, cioè magari sono andato, nel mio caso, al campetto, sì, con un po' di cose in test, un po' di preoccupazioni e così via, per un'ora, un'ora e mezza, svuoti l'anima nell'attività fisica e subito dopo e per un lungo periodo cambia decisamente meno preoccupato per le stesse cose. Ecco, però l'attività fisica ad alta intensità ha appunto il problema che è difficile automotivarsi, è difficilmente sostenibile e poi per un tempo continuativo non va neanche bene, perché non è che tutti i giorni ci si può spremere al limite delle proprie possibilità, quindi teoricamente è una cosa che aiuta ed aiuta dal punto di vista pratico, ma poco fattibile, poco sostenibile, soprattutto per la maggior parte delle persone, mentre invece che cos'è che riesce anche ad abbattere questo e eventualmente ad abbattere questo ed è per questo che io la mia iniziativa rinnova e rinforza muscoli e postura me la faccio molto volentieri, andate a vedere le informazioni e registratevi alle prove gratuite, alle lezioni introduttive con il link che c'è sotto questo video, perché un'altra cosa che abbatte questa cosa è il ridurre le tensioni della muscolatura, anche se di base io testandomi non ho teoricamente delle rigidità molto evidenti, ma qualche rigidità, qualche tensione c'è sempre e l'allentare queste tensioni allenta anche il motivo per cui si sono formate. Ecco perché il lavoro posturale ha molto molto spesso un impatto forte, anche dal punto di vista emotivo, anche dal punto di vista del sistema nervoso. Ecco perché mi farò molto volentieri questo nuovo programma posturale al quale invito tutti a partecipare. Ed ecco qua, quindi la base sicuramente ce l'abbiamo sui sintomi, già i sintomi danno tantissime tantissime informazioni, le strumentazioni ci aiutano a confermarle, però alla fine le cose da fare effettivamente poi non cambiano, lo vediamo, si possono poi più o meno studiare, però i programmi come li propongo e come proporrò questo nuovo sono assolutamente super validi nella stragrande maggioranza dei casi. Bene, per questo video è tutto, mi sono messo così allo scoperto, se ti è sembrato interessante non dimenticare di lasciare un mi piace, non dimenticare di iscriverti nei canali. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.